Fino a 1991 sei stata proclamata Miss Italia da Fabrizio Frizzi Caro, avevi solo 16 anni Sì, guardiamo Miss Italia 1991 è la numero 9 Martina Colombari Sì, guardiamo Sì, guardiamo Ho ascoltato una tua intervista fatta a Repubblica Dove tu lo hai ricordato, hai detto delle cose bellissime di Fabrizio Sì, perché è vero che poi le persone se ne vanno Ma persone belle come Fabrizio rimangono fra noi Quello che lui ha dato, ha seminato È talmente importante, era così una brava persona Quando si dice, una volta si diceva, era un bravo uomo Fabrizio era veramente così Aveva questa capacità di essere normale E nella sua normalità c'era un mondo, c'era un'umanità E quindi Noi gli mandiamo un bacio da lassù Assolutamente Lui continuerà ad esserci Per me è stato tanto Perché quando lui pronunciò quella frase Miss Italia 1991 è la numero 9 Quella frase è una grande emozione E noi gli mandiamo un bacio da lassù Ciao Fabrizio